Non mollare di un centimetro il diktat di Mr. Lerda, rendere la vita difficile al Crotone, la risposta di Raffaele in partenza di un match che vede contrapposte due compagini dai pesi specifici, dagli obiettivi ben differenti. Per gli ospiti in campo, dalla primo minuto, un'inedita coppia d'attacco composta dall'ultimo arrivo in Casa Rosso Blu, Jacopo Murano e Danando Del Sole. Dopo 180 secondi si fa subito vedere in avanti il Crotone con Dursi che non trova la coordinazione giusta su una bella palla di Gomez calciando alto sulla traversa. All'undicesimo sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Crialese che prova un tocco morbido sul quale bravo Gasparini a deviare in calcio d'angolo. La prima chance per il Potenza nasce da una ripartenza al ventitresimo con Del Sole che serve in area a Murano che di destro trova la pronta respinta di Dini. Al minuto 36 il Crotone resta in dieci uomini per l'espulsione di Golemic che atterra al limite dell'area a Murano. Della successiva punizione se ne occupa Cittadino che di destro sfiora l'incrocio dei pali. Nella ripresa si ristabiliscono subito gli equilibri numerici in campo a seguito dell'espulsione di Matino che al quarantasettesimo rimedia il secondo cartellino giallo. Al 65esimo Tribuzzi impenserisce Gasparini con un tiro cross insidioso che il numero uno rosso-blu devia in angolo. Cinque minuti dopo Gomez ha la palla perfetta per portare il suo in vantaggio su un cross di Tribuzzi e sponda di Bove ma arriva con un secondo di ritardo all'appuntamento con il gol. L'ultimo tentativo della gara ce l'ha ancora Gomez all'ottantasettesimo che di testa non riesce però ad imprimere forza e precisione. Nei minuti di recupero il Potenza reclama un penalty per un tocco di mano in aria. Termina dunque a reti inviolate una gara in cui il Potenza condanna il Crotone al suo secondo pareggio interno. Gara per molti minuti in mano ai padroni di casa, ospiti che hanno saputo controllare bene il match in fase difensiva provando a sfruttare le ripartenze. È un punto che consente agli uomini di Raffaele di riscattare la sconfitta di Foggia.